Rifiuti, alberi caduti, mucchi di legna secca accatastati in diversi punti anche a ridosso delle abitazioni. Si presenta così il cosiddetto comparto numero 2 della pineta d'Annunziana a Pescara a denunciare la cattiva gestione della stessa e la stazione ornitologica abruzzese che accusa l'ente comunale di scarsa manutenzione. Abbiamo visto legna secca lasciata da tempo a terra, interi alberi. Solo grazie alla conferenza stampa un albero penzolante è stato tolto dopo che abbiamo convocato la conferenza stampa. Questo la dice lunga sul fatto che la manutenzione è necessaria, si può e si deve fare e non sono i vincoli della riserva a impedirli ma è solo la volontà degli enti, in particolare del comune di Pescara, a realizzare tutto quello che è previsto nel piano di assetto naturalistico e nel piano antincendio della pineta che esistono e devono essere applicati. La manutenzione è necessaria e obbligatoria, per quello i vincoli ci sono ma addirittura sono vincoli per fare, non per impedire di intervenire. Alla luce di queste criticità e dell'incendio che ha devastato il comparto numero 5, la stazione ornitologica invierà una diffida al comune in relazione all'attuazione delle misure dei due documenti cardine della riserva, ovvero il piano di assetto e il piano anti-incendio. Quest'ultimo fatto nel 2020 che prevedevano attività di manutenzione come diradamento di alberi, eliminazione della vegetazione all'octona oltre a punti di avvistamento e il coordinamento tra le varie forze. Noi facciamo una diffida oggi stesso al comune affinché adempia alle prescrizioni del piano di assetto naturalistico e del piano anti-incendio. Il piano anti-incendio del comune di Pescara realizzato nel 2020 era molto preciso, addirittura dava l'orario di possibile innesco dalle 10 alle 17 e diceva anche che bisognava preparare i volontari, fare gruppi di volontari, fare punti di avvistamento e fare interventi anche sulla riserva di manutenzione per togliere legna secca e cose di questo genere e anche comprare materiale per l'antincendio per distribuirlo ai volontari e così via. E' stato fatto? Da quello che è accaduto ci pare di no, però queste saranno anche le indagini ad accertarlo.